Tra un 30 anni 30 anni sicuro Ecco qua cari ragazzi Scensore d'epoca Di 30 anni fa Di casa di mia nonna Del palazzo di mia nonna Guardate come cammina Ecco qua Scensore vintage 26 novembre No Il 29 novembre 2020 Ho visto l'ascensore in movimento Ecco qua Scensore in movimento Siamo nell'ascensore D'epoca No quando si ferma come fa Dobbiamo arrivare al quarto piano Che è il piano dove sta nonna Vediamo è arrivato Ecco qua che ragazzi Ascensore vintage D'epoca Grazie.